Tatiana vagava per una strada deserta. La notte era già calata sulla città. I lampioni brillavano penetranti. Sembrava che illuminassero direttamente nell'anima e quasi gridassero alla sfortunata ragazza scappa da qui. Scappa, ma dove poteva correre? Non c'era nessun posto. Completamente sola in una città straniera, senza mezzi per vivere, senza un tetto sopra la testa e con un bambino nel cuore. Tatiana aveva mai pensato che la sua vita sarebbe finita così, dato che solo sette mesi prima tutto era diverso e sembrava che davanti a lei ci fosse solo una vita felice. Allora Tatiana viveva in un villaggio. Dopo la scuola non andò a studiare in città. Avrebbe potuto anche entrare all'università a spese dello Stato. Ma era cresciuta solo dalla madre, che lavorava come mungitrice in una fattoria locale. La madre non avrebbe potuto permettersi una vita cittadina. No, lei lo aveva proposto. Aveva detto che ce l'avrebbe fatta, ma Tatiana decise di rimanere nel villaggio, andò a lavorare, e poi un giovane ingegnere arrivò nel loro villaggio. Stavano installando nuove attrezzature per la mungitura nella fattoria locale, e Andrea era arrivato per l'addestramento. Visse nel villaggio per circa un mese, dove incontrò Tatiana. E il giovane ingegnere si innamorò della giovane postina, e lei ricambiò il sentimento. Tutto tra loro si sviluppò così rapidamente, e entrambi credevano che fosse amore a prima vista. Quando, prima di partire, Andrea propose a Tatiana di andare con lui, lei ci pensò, ma quando lui la chiese in matrimonio, non ebbe dubbi, sarebbe andata con lui. Ora sarebbe diventata una cittadina, e non importava che conoscesse Andrea da così poco tempo, per il vero amore non ci possono essere condizioni. La madre di Tatiana aveva dei dubbi, cercò di dissuaderla, ma chi l'avrebbe ascoltata, essendo maggiorenne e sapendo tutto. Tatiana partì con Andrea. In città, Andrea presentò Tatiana a sua madre, ma a lei non piacque la sposa di campagna. Non era il tipo di moglie che la signora Anna voleva per l'unico figlio. Andrea era istruito, promettente, e questa chi era? Una zotica di campagna. Ma Andrea non ascoltò sua madre, amava sinceramente quella dolce giovane ragazza con grandi occhi azzurri e una treccia grossa come un pugno. E Tatiana era davvero brava, cucinava bene, teneva in ordine la casa. Che moglie migliore si potrebbe desiderare? Andrea e Tatiana si sposarono. Senza una vera cerimonia, lui le regalò solo un anello e un enorme mazzo di rose, e sedettero insieme in un caffè. La madre di Tatiana li congratulò al telefono e basta. La signora Anna nemmeno pensò di congratularsi con i giovani sposi. La giovane coppia viveva in un appartamento che era appartenuto alla nonna di Andrea, anche se i documenti erano ancora intestati a sua madre. Voleva subito registrare la giovane moglie nell'appartamento. Ma la signora Anna si oppose. Andrea decise di non discutere. Nulla, la madre si sarebbe calmata e avrebbe accettato Tatiana. Presto Tatiana rimase incinta e si registrò presso la clinica. Voleva trovare un lavoro, ma Andrea si oppose. Guadagnava abbastanza nella sua azienda per mantenere la famiglia e perché lei, incinta, avrebbe dovuto andare da qualche parte. Che lavoro avrebbe potuto trovare? Come commessa o donna delle pulizie? No, sua moglie meritava di più. Dopo la nascita del bambino, e un po' più tardi, avrebbe potuto andare all'università. In breve, Andrea amava Tatiana con tutto il cuore, la proteggeva e la coccolava, e lei non poteva fare a meno di lui. Quel giorno nulla faceva presagire la tragedia. Tatiana aveva salutato il marito al mattino quando era andato al lavoro, si era occupata delle faccende domestiche, e dopo pranzo doveva andare in clinica. Stava per prendere i mezzi pubblici per andare dal dottore, ma poi Andrea chiamò. Tesoro, oggi posso uscire prima dal lavoro, ti accompagno io alla clinica, perché dovresti scuoterti in un autobus soffocante, è difficile no? Propose il marito. Tatiana accettò volentieri. Le piaceva quando Andrea la accompagnava dal dottore. Le piaceva in generale quando erano insieme. Cominciò a prepararsi ad aspettare il marito, ma passarono un'ora, due, ormai la visita era tra mezz'ora, e Andrea non c'era. Tatiana lo chiamò sul cellulare, ma a rispondere fu un ispettore della polizia stradale. Informò che l'auto del marito era stata tagliata fuori da un pirata della strada ubriaco. Com'è? È vivo? Chiese Tatiana terrorizzata. Purtroppo, l'auto era stata sbalzata fuori strada, aveva colpito il guardrail, e suo marito aveva subito ferite incompatibili con la vita. Accetta le mie condoglianze. Tatiana non poteva credere che fosse vero, il dolore la rese sorda. Si riprese solo al funerale, quando la bara con suo marito fu abbassata nella tomba. Fu allora che gridò, cadde in isteria. Le persone attorno cercarono di calmarla come potevano. Solo la madre di Andrea non si avvicinò a Tatiana. Invecchiata in un istante. Stava lì come una pietra sulla tomba del figlio, e quando se ne andò dal cimitero, lanciò uno sguardo a Tatiana. Tutto è colpa tua, infame. Sapeva che Andrea stava andando dalla moglie per portarla in ospedale. E ora la madre riteneva proprio Tatiana responsabile della morte del figlio. Se non si fosse affrettato da lei, nulla sarebbe accaduto. Al funerale, la suocera lanciava solo sguardi malevoli alla nuora. E il giorno dopo il funerale venne da Tatiana dicendole di andarsene dal suo appartamento. Ma dove dovrei andare? Piangeva Tatiana. Non ho un altro posto dove vivere. Sono registrata alla clinica qui. Non so nulla. Voglio che il tuo spirito non sia più qui. Tu vivi qui illegalmente. Non ti ho registrato. Vattene. Torna al tuo villaggio. Ma porto in grembo tuo nipote, osservò timidamente Tatiana. Questo resta da vedere, rise la suocera. Hai potuto ingannare mio figlio Andrea, ma non me. Chissà con quanti sei stata nel tuo villaggio. Signora Anna, come osa? Dall'offesa e per tutte le sofferenze, Tatiana scoppiò in lacrime. Lei sa che sono rimasta incinta solo dopo il matrimonio. Quindi, anche dopo stavi mettendo le corna a mio figlio, sfacciata. Vattene con il tuo mostro, urlò la suocera. E poi diventò come una pazza. Minacciò, si scagliò contro Tatiana, lanciò le sue cose. Alla fine, semplicemente cacciò la nuora sul pianerottolo senza le sue cose. Lanciandole solo la borsa in faccia. E nella borsa non c'era nemmeno il portafoglio. Tatiana lo aveva messo su una mensola per qualche motivo. Egli era rimasto. Fortunatamente, aveva il passaporto nella borsa. Tatiana non se ne andò subito, piangendo sul pianerottolo, implorando la signora Anna di farla entrare. Poi chiedendo dei soldi, almeno per un biglietto per il villaggio. Dietro la porta regnava un silenzio di tomba. E tutti i vicini intorno si zittirono. Nessuno aiutò Tatiana. Figuriamoci difenderla. Tatiana se ne andò. Dirigendosi verso la stazione nella speranza di provare a partire in qualche modo. All'inizio chiese ai conduttori di lasciarla salire illegalmente sul treno. Ma loro si limitarono a scrollare le spalle, dicendo che non era permesso. Sì, se avesse avuto dei soldi, sarebbe stato diverso. Ma nella borsa aveva raccolto molto poco. Con quei soldi comprò una torta e dell'acqua, si sedette su una panchina nel parco e mangiò tutto con avidità. Doveva fare qualcosa. Doveva trovare un posto dove dormire. Il bambino nel suo grembo, come se sentisse l'ansia della madre, si comportava in modo agitato. Saltava, scalciava. Tatiana decise di andare alla polizia. Era già tardi sera. Il poliziotto di turno l'ascoltò. Disse che l'agente di quartiere ci sarebbe stato la mattina dopo. Tatiana dovesse venire domani. E ora che doveva fare? Il poliziotto si limitò a scrollare le spalle. Tatiana trascorse la sua prima notte senza tetto in un parco, addormentandosi su una panchina. Per fortuna la notte era calda, come se la natura stessa si prendesse cura della sfortunata ragazza. La mattina fu svegliata da una spazzina grassa che puliva il parco. «Perché ti sei sdraiata qui?» gridò la grassona. «Gli spacciatori di droga si sono proprio sfacciati. Oh, persino con un pancione. Non temi né Dio né il diavolo. Non pensi a te stessa. Pensa al bambino. Ah, che sto dicendo? Il cervello è già fritto dalla droga». Tatiana voleva spiegare alla donna che si sbagliava. Non era una tossicodipendente. Semplicemente non aveva dove andare. Ma la spazzina continuava a urlare e poi minacciò anche di colpirla con la scopa. Tatiana si affrettò a lasciare il parco. «E ora dove andare?» E poi vide un vecchio davanti al negozio, che stava lì con la mano tesa. Nella mente della sfortunata e incinta Tatiana maturò subito un piano, doveva provare a chiedere l'elemosina. L'importante era raccogliere abbastanza per un biglietto per casa, mille e poco più. Si mise non lontano dal vecchio e anche lei tese la mano. Il vecchio barbone, vedendola, cambiò espressione. Lasciò il suo posto, si avvicinò a Tatiana e si bilò maleodorante. «Vai via, cavalla, altrimenti qui stesso partorirai il tuo piccolo». Tatiana si allontanò spaventata da lui e se ne andò verso la stazione. Pensava che le sarebbe stato più facile raccogliere qualche soldo. Si posizionò non lontano dalla piazza della stazione, tese la mano e poi la abbassò, vergognandosi terribilmente. E fu notata da una barbona, una donna di età indefinita. Si avvicinò, sorridendo, e le consigliò di non tentare la sorte. «Qui ogni metro è conteso, i nuovi non sono benvenuti», disse. «Vai, ragazza, per il tuo bene, prima che sia troppo tardi. Mi serve solo un po', solo per un biglietto per casa», implorò Tatiana. «Posso stare qui. Per me va bene, stai quanto vuoi, ma se il capo ti vede, manderà i suoi cani su di te». «Cani?», sussurrò terrorizzata Tatiana. «Certo». Il strabico. Grigori, lui qui è il capo. Ha perso un occhio in una rissa. Ecco perché lo chiamano strabico. Ha raccolto una squadra di persone come noi. Tutti i mendicanti chiedono il suo permesso per poter lavorare vicino alla stazione e gli pagano. «Forse dovrei chiederglielo anch'io», chiese Tatiana disperata. «Oh, non te lo consiglio. Ti farebbe a pezzi. E poi sei incinta. Vai via da qui. Non ho dove andare», piangeva Tatiana. «Oh, che situazione. Vieni, ti offrirò del tè. Io sono svetlana», per dire. «Non sono esattamente madre Teresa, ma mi fai pena». La nuova conoscenza condusse Tatiana sotto un ponte. Lì, tra i cespugli, c'era un rifugio dove svetlana apparentemente viveva. Rapidamente accese un fuocherello, riscaldò dell'acqua in un bollitore annerito. Versò l'acqua bollente in una tazza sporca. Da una borsa l'ogora tirò fuori un panino di salame intatto e del pane. Tagliò tutto su un qualche tipo di asse indistinto. Preparò dei panini e ne porse uno a Tatiana. «Mangia». Inizialmente, osservando le azioni della barbona, Tatiana provava disgusto, ma il salame profumava così bene. La ragazza mordicchiò avidamente un pezzo di panino. «È buono», sorrise timidamente. «Vedi?» Svetlana sorrise soddisfatta, masticando un altro panino. «So dove prendere il cibo. Non mangio schifezze. Conosci un buon negozio», chiese ingenuamente Tatiana, sorseggiando il suo panino con acqua calda. «Negozio, ris e svetlana. Abbiamo il nostro negozio». «Va bene, ti dirò un segreto». «Mi fai pena. C'è un supermercato all'angolo, dietro c'è un cassonetto. Lì, i dipendenti portano fuori il cibo scaduto diverse volte a settimana dopo le dieci di sera e la mattina prima delle otto. L'importante è arrivare presto, altrimenti resta solo marciume». Svetlana fece l'occhiolino a Tatiana, preparò un paio di panini in più e li condivise con la sua nuova amica. «Non ti preoccupare, amica, ti abituerai. Tutti noi abbiamo iniziato in qualche modo», disse Svetlana con un sospiro. «Il problema è che sei incinta». «Ma va bene. Quando nascerà, ti aiuterò a liberartene». «A liberarmi di chi?», sussurrò Tatiana terrorizzata. «Ma di chi, virgola svetlana, sembrò sinceramente sorpresa. Del tuo bambino? Con lui non sopravviverai nelle nostre condizioni. E comunque dovrai sistemare le cose con lo strabico. Insomma, abituati all'idea che sei una di noi e devi vivere secondo le nostre regole». «Ok, devo andare. E tu fai altrettanto. Prova a chiedere qualche soldo nel parco, alle fermate, ma non avvicinarti alla piazza. Ti sbranano. Vieni a dormire da me. Ti sei ricordata la strada?» Tatiana annui incerta. «No, di certo non sarebbe tornata lì. Grazie a Svetlana, certo. Ma Tatiana non avrebbe vissuto così». Dopo si diresse nuovamente alla stazione di polizia, ma c'era un certo trambusto. Aspettavano un alto funzionario. Nessuno parlò con Tatiana, le dissero di tornare domani. «E dove poteva andare?» Trascorse tutto il giorno vagando per la città. Affamata. L'unica cosa che alleviava un po' la fame erano le mele selvatiche acerbe che crescevano nel parco. Di nuovo sera. Tatiana vagava per le strade che si svuotavano e piangeva. E il bambino nel suo ventre, sembrava, piangeva anche lui, scalciava, si agitava. Senza forze. E come aveva fame. Tatiana ricordò le parole di Svetlana sulla roba scaduta. E se ci fosse qualcosa lì adesso? Non provava più disgusto né vergogna. Voleva solo mangiare. Lei e il bambino lo richiedevano. Trovò rapidamente quel supermercato. Lo aggirò dal retro e vide il cassonetto necessario. Si avvicinò indecisa. Ecco i bidoni a due passi. La luce del lampione illuminava bene. E non c'era nessuno. Tatiana fece un passo avanti e subito sentì sotto il piede il fruscio di una busta di plastica. Guardò in basso e rimase di stucco. Ai suoi piedi, in una busta trasparente, c'era un mazzo di banconote da cento. Tatiana scosse la testa, pensando che fosse un'allucinazione per la fame. No, non era un miraggio. Ai piedi della sfortunata senza tetto c'era un mucchio di soldi. Tatiana guardò intorno. Poi si chinò e raccolse la busta. Esaminò attentamente le banconote. Sembravano vere. E il mazzo era intatto. Tatiana infilò rapidamente i soldi nelle tasche e si affrettò ad andarsene. Poi nel parco contò di nascosto il denaro. La ragazza rise e pianse allo stesso tempo. Erano finiti tutti i suoi guai? C'era davvero un dio in questo mondo che aveva pietà di lei. La prima cosa che fece Tatiana fu andare in quel supermercato e comprare cibo vario. Poi, seduta su una panchina, mangiò con piacere. Voleva dormire e anche lavarsi. No, quella notte avrebbe dormito in condizioni normali e il giorno dopo avrebbe comprato un biglietto e sarebbe tornata a casa dalla madre. E tutto sarebbe andato bene. Anche per il suo piccolo. Non aver paura, piccolo, ce la faremo ora. Mormorava lei, dirigendosi verso l'hotel. In hotel prese una stanza singola per un giorno. Si lavò, mangiò ancora e si addormentò profondamente. Tatiana non aveva mai dormito così profondamente. Sognò Andrea. Lui le parlava, sorrideva, ma per qualche motivo si allontanava sempre di più da Tatiana. Poi sparì del tutto. Tatiana si svegliò in uno stato di inquietudine indefinita. Sì, certo. Pensava ai soldi che aveva trovato, ma in quel momento doveva prima di tutto risolvere i suoi problemi. Dopo aver fatto colazione nel ristorante dell'hotel, Tatiana andò alla stazione. Lì comprò un biglietto, poi entrò in un negozio di abbigliamento. Dopo si riposò ancora un po' nella stanza. E la sera Tatiana si diresse alla stazione. E quando era già vicino al suo vagone, un gruppo di poliziotti si avvicinò e le chiese di accompagnarli al posto di polizia. Il mio treno parte tra 15 minuti, supplicava Tatiana. Non ci interessa, rispose uno dei poliziotti. Sei in arresto. Abbiamo ricevuto un avviso su di te. Per quale motivo sono arrestata? Esclamò Tatiana. Per furto. Andiamo, chiariremo. Al posto di polizia della stazione spiegarono a Tatiana l'accusa. I soldi che aveva trovato erano stati persi da un giovane uomo. Li aveva accidentalmente lasciati cadere. E quando se ne accorse, si rivolse alla polizia. Ricordò di essersi avvicinato al cassonetto per buttare la spazzatura dal bagagliaio della sua auto. I soldi erano nella tasca della sua giacca. E apparentemente il sacchetto in cui si trovavano era scivolato fuori accidentalmente. Vicino al supermercato, in direzione del cassonetto, c'era una telecamera di sorveglianza. I poliziotti esaminarono le riprese e videro una giovane donna incinta che raccoglieva il sacchetto con i soldi. Prepararono un avviso di ricerca, che fu diffuso ovunque. Presto ricevettero una segnalazione che una ragazza simile aveva preso una stanza in hotel. Comprato un biglietto per il treno. Arrestare Tatiana ora era facile. Ma non ho rubato quei soldi, piangeva Tatiana. Li ho trovati. È visibile nel vostro video? È una grossa somma di denaro. Dovevi portare il ritrovamento alla polizia. Non l'hai fatto, quindi sei accusata di furto, spiegò il poliziotto. Fu portata in stazione di polizia. Quella sera c'erano sia l'agente di quartiere che l'investigatore. Cosa mi succederà ora? Piangeva Tatiana. Non lo so, rispose l'investigatore con aria cupa, compilando i documenti. Adesso apriremo un caso. Poi lo invieremo in tribunale. Sarà il tribunale a decidere. Ma ho dato tutti i soldi ai vostri agenti. Dateglieli al proprietario e basta, implorava Tatiana. Ho speso solo un po'. Restituirò tutto. Un po' più tardi. Vorrei solo tornare da mia madre. La vittima ha presentato una denuncia. Dobbiamo prenderla in considerazione. L'investigatore sospirò e guardò con compassione la magra giovane donna incinta. Quasi una ragazza. Ti consiglio di provare a raggiungere un accordo con il proprietario dei soldi, affinché ritiri la denuncia, allora non ci sarà un procedimento penale. E poi nella stanza bussarono. Entrò un giovane uomo in un costoso abito. Era lui che aveva perso i soldi. Tatiana lo guardava e non poteva credere. Era davvero quello stesso Alessio? Alessio, che veniva al loro villaggio dalla nonna d'estate. Era più grande di Tatiana di cinque anni. A volte la portava con sé a pescare e anche a guidare in moto. Lei era segretamente innamorata di lui, ma Alessio non le prestava attenzione in quel senso. Poi finì la scuola, andò a studiare oltre. Smette di venire al villaggio, poiché la nonna era morta. Tatiana aveva la sua vita, sembrava aver dimenticato il suo primo amore. E ora lui era davanti a lei. Alessio la guardava sorpreso, capendo di averla già vista da qualche parte. Tatiana, sei tu? Disse incerto. Io, Alessio, singhiozzava lei. Cosa ti è successo? Come sei finita qui? Perché? Alessio faceva domande a Raffica. L'investigatore spiegò che avevano trovato la ladra dei suoi soldi. Che ladra? Risse Alessio. Io sono il pollo. Ritirò la denuncia. Il problema fu risolto. E poi lui e Tatiana uscirono dalla stazione di polizia. Tatiana gli raccontò la sua storia triste. Alessio era furioso. Proponeva di affrontare la suocera, almeno per spaventarla. Sei un bandito? Chiese Tatiana con un triste sorriso. No, sono un avvocato, rise Alessio. Posso costringere legalmente quella donna a darti l'appartamento. Non a te, ma al suo futuro nipote. Non ho bisogno di niente. Voglio solo tornare a casa dalla mamma, confessò Tatiana. Alessio disse che l'avrebbe portata al villaggio sulla sua macchina. Raccontò come avesse perso i soldi. Suo padre aveva bisogno di un intervento urgente. Tutto era già stato pagato. Mancava solo un po' di denaro. Proprio in quel momento, ad Alessio erano stati pagati in contanti per un lavoro ben fatto. Stava andando al bancomat per trasferire la somma necessaria sul conto della clinica e, lungo la strada, si era fermato ai bidoni della spazzatura. Nel bagagliaio c'era un sacchetto dalla caccia che aveva dimenticato di gettare via. E proprio lungo il percorso c'erano i bidoni. Decise di buttare la spazzatura. Buttò via il sacchetto, ma non si accorse di aver perso anche un altro sacchetto con i soldi. Ho scoperto la perdita al bancomat, ho chiamato la polizia. Chi avrebbe mai pensato che sarebbe andata così? Tatiana, non essere arrabbiata con me, disse. Non lo sapevo. Non avevo intenzione di rubare. Stavo così male. Non puoi immaginare. E poi c'erano tutti quei soldi. Non ho nemmeno pensato di doverli portare in polizia. Anche lei si scusò colpevolmente. Alessio, perdonami, ho speso un po' di soldi là. Tuo padre non avrà ancora abbastanza per l'operazione. Ma li restituirò. Arriverò subito da mamma e te li manderò. Non c'è bisogno di mandare niente, scosse la testa Alessio. Aggiungerò io stesso. Ma mi vergogno. Tatiana, smettila, va tutto bene. Le fece un occhiolino. Tatiana trascorse la notte nell'appartamento di Alessio e la mattina lui la portò al villaggio. La mamma, vedendo sua figlia, scoppiò in lacrime. Non sapeva più cosa fosse successo a Tatiana. Voleva rivolgersi alla polizia. Non era potuta venire al funerale del genere. E ora il telefono di sua figlia era fuori zona. Solo signora Anna rispondeva nell'appartamento. E la rimproverava solo. Figliola, cara, non piangere. Ce la faremo. Diceva la mamma. Ora siamo insieme e tutto andrà bene per noi. Alla vigilia di Capodanno Tatiana partorì un bambino sano. Ma non visse a lungo nel villaggio con il bambino. Alessio iniziò a farle sempre più spesso visita. Portava giocattoli, vestiti per bambini, e poi chiese Tatiana in sposa. Lei accettò. Perché? Come tornò in città con il bambino. I genitori di Alessio l'accettarono subito e chiamarono il bambino nipote. In particolare, il padre di Alessio, Sergei, amava giocare con il piccolo Nikita. Dopo l'operazione non poteva sollevare pesi, quindi oscillava Nikita sulla gamba e lui rideva di gioia. Anche la madre di Tatiana visitava spesso la città. Per vedere sua figlia, suo genero, suo nipote, i parenti, ora erano una vera famiglia. E nell'appartamento all'altro capo della città, Anna viveva sola, trascorrendo i suoi giorni. Sempre più spesso pensava che avesse un nipote da qualche parte, solo che non sapeva dove. Ormai nessuno le è lo direbbe più. Tuno le è lo direbbe più. Tuno le è lo direbbe più. Tuno le è lo direbbe più.